Benvenuti da Andanovi Ciarici in questo super nuovo videone, in questo super nuovo videone vi parlerò del secondo canale di Mattia Dillo che si chiama, non mi ricordo più come si chiama, andiamo a cercarlo. Allora, ragazzi andiamo a cercare il secondo canale di Mattia Dillo, iscrivetevi ragazzi, iscrivetevi, io obiettivo 150 iscritti nel mio secondo canale e anche nel mio primo canale. Allora, andiamo, si chiama, adesso mi ricordo come si chiama, si chiama tutto sul calcio, ha solo un dislike e 23 like. Se vi piace questo video iscrivetevi a 26 iscritti, 23 like e un dislike, iscrivetevi al secondo canale di Mattia Dillo e fatemi arrivare a obiettivo 150 iscritti e anche su uno stop music non dimenticate di andare a vedere i miei video. Se vi piacciono i miei video iscrivetevi, quindi lasciate like a questo videone, questo video lo metto anche su Instagram, quindi spolliciate ragazzi, commentate qui sotto nei commenti e grazie per aver guardato questo video. Noi ci rivedremo alla prossima da un nuovo videone e non dimenticate di andare tutto sul calcio e iscriversi al secondo canale di Mattia Dillo e anche di passare al mio secondo canale che si chiama Non Stop Music e per chi non mi segue su Instagram, per chi non mi segue ancora su Instagram, mi chiamo Andanovic Arici, ho 297 post, 275 follower, 887 seguiti. Noi ci rivedremo nel prossimo video da Andanovic Arici Noi ci rivedremo nel prossimo video da Andanovic Arici. Noi ci rivedremo nel prossimo video da Andanovic Arici. Noi ci rivedremo nel prossimo video.